Siamo con Valerio Di Stefano che è responsabile tecnico di Georg Fischer, allora le chiedo subito com'è ritornare in fiera, ritornare a contatto con i clienti per questa ripartenza, quanto è importante? È un'esperienza abbastanza importante perché dopo mesi di fermo totale riprendere contatto con le persone e i clienti è utile e importante, ovviamente sempre con le dovute precauzioni e tutto quello che può comportare. Siamo qui al SAI di Bologna, l'affluenza è discreta, pensavo anche che fosse inferiore sinceramente. Questo è il secondo giorno, stiamo presentando con Georg Fischer, l'azienda per cui lavoro, stiamo presentando delle soluzioni specifiche per il controllo e la qualità dell'acqua sanitaria, sono delle valvole che bilanciano e controllano il sistema di ricircolo. Non è l'unica soluzione, stiamo esponendo qua in fiera, stiamo anche puntualizzando innovativi sistemi per pompe di calore, soprattutto sono delle tubazioni plastiche, preisolate, raccorderie preisolate, un sistema nuovo. Abbiamo una buona aspettativa di affluenza e di contatti e già in questi giorni abbiamo raccolto un buon numero di soggetti, progettisti soprattutto interessati all'argomento. Per ripartire una fiera è davvero l'ideale, perché tanti incontri, da cosa nasce cosa, questo è un po' il principio. Più che altro sta permettendo di recuperare in fretta contatti e persone che non sarebbero venute certamente a conoscerci.